profondamente cane non sono abbastanza forma e destinazioni d'uso a descrivere l'essenza di chi con noi condivide l'esistenza chi è l'uomo e chi è il cane quanto è complicato trovare una risposta al di là dell'apparenza si può dire e fare bene o male di questa convivenza esaltarne le virtù o scivolarne l'ignoranza anteporre passioni ed ingordigia alla pazienza e tutto sarà valso la pena se alla fine la realtà prevarrà sull'apparenza nel lungo cammino della coscienza incontreremo qualche complicanza ma senza paura e con coraggio prosegue il viaggio a volte veloce altre più ad agio impariamo gli aspetti grossolani e sottili con gli amici più ostili e con quelli gentili e con il cane fedele compagno libero di giocare in un bosco o condotto al guinzaglio misuriamo la nostra attitudine alla vita giochiamo la nostra partita oltre l'immagine più superficiale di bene e di male se ne può scorgere un'altra si può profondamente sentire profondamente amare profondamente cane